E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto Io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il morning with crypto Andremo a guardare insieme tre notizie che ho selezionato per voi nella notte Andremo a vedere i gamers e i losers di CoinMarketCap E poi un rapido sguardo ai grafici per capire l'analisi della notte Insomma quello che è emerso dai movimenti del prezzo nella fascia notturna Come sempre ragazzi prima di partire vi invito a lasciarmi un bel mi piace Mi aiutate davvero tanto non è scontato per me quindi continuate a farlo So che magari non è una cosa che vi viene spontanea a fare Però vi ripeto a me è molto utile per capire anche se questi contenuti vi piacciono E mi invogliate a continuare a farli Dopodiché se questi contenuti vi piacciono vi invito a iscrivervi al canale Con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati E noi partiamo dalla prima news Prima news che ho selezionato non tanto per BurgerSwap Che fondamentalmente non è che sia un protocollo super conosciuto O super utilizzato Però per farvi capire come in realtà sia che sia la Binance Smart Chain Che sia Ethereum, che sia Solana, che sia quello che volete Il problema dove sta? Sta nel fatto che state operando in DeFi E questo è rischioso Siamo utilizzati dei protocolli che hanno dei sistemi di controllo avanzati Più che sistemi di controllo avanzati sviluppati da un team affidabile con esperienza Perché si rischiano gli exploit Le abbiamo visto su Banni L'abbiamo visto su... anche se in realtà lì si trattava di un altro attacco col Flash Loan Però l'abbiamo visto anche su Autofarm L'abbiamo visto su parecchi protocolli Che bisogna stare molto attenti Ok quindi mi raccomando sempre quando inserite dei soldi non è sbagliato farlo Assolutamente Potete farlo assolutamente La DeFi penso sia il futuro della finanza Però sempre con un po' di razionalità Non dovete metterci i vostri live savings E io apprezzo molto tutti quei protocolli che ve lo segnalano continuamente Vi fanno capire come ci tengono anche loro la sicurezza della piattaforma Quindi quello è fondamentale Comunque sono stati appunto drenati 7.2 milioni di dollari E ora bisognerà capire quello che andrà a fare la piattaforma Se riuscirà a coprire le eventuali perdite Perché eventuali le perdite Per quanto riguarda Cardano Andrà a essere in un rollout Quindi sarà rilasciata la DeFi La suite per la DeFi Quindi un set di funzionalità per la DeFi E gli smart contract il prossimo mese Questo con l'aggiornamento che era programmato di Alonzo E praticamente finalmente si vede qualcosa di concreto Per fine mese Appunto per il prossimo mese su Cardano Quindi inizierà ad essere effettivamente operativo Ricordiamo che Cardano ad oggi A parte lo staking Non ha attivo nulla Dopodiché sarà molto interessante vedere gli sviluppi che ci saranno su Cardano E chi deciderà appunto di operare su Cardano Però appunto è un ottimo passo Insomma per iniziare a vedere qualcosa di concreto Dopo tanti anni di sviluppo Insomma Cardano è abbastanza conosciuta Per le sue tempistiche abbastanza lunghe Nel rilascio degli aggiornamenti O meglio dello sviluppo del progetto Però insomma Quando c'è qualcosa anche di positivo da segnalare È giusto farlo Volevo passare poi a voi Su una questione molto interessante Che appunto va molto di moda In questo momento Che è anche quella del mining Perché questa cartina secondo me è molto chiara Anche per chi appunto è nuovo Non ha particolari concezioni Su cos'è il mining Dove viene svolto Perché viene svolto in queste zone Voi vedete come in realtà Circa il 60% di tutti i megawatts Che vengono adoperati per il mining Viene sviluppato in Cina Vedete come anche in realtà la Georgia Abbia una percentuale abbastanza importante Quindi stati magari dove Il costo di elettricità È molto più vantaggioso Ok Però è molto interessante capire Come appunto il ban Ok di quello che è la Cina Fondamentalmente rispetto al mining Se dovesse concretizzarsi E quindi molti minatori Dovessero chiudere e spostarsi fuori O comunque prendere il piede Il mining in altri stati La cosa sarebbe anche forse migliore Perché andremo a decentralizzare Maggiormente il tutto Questa cartina è molto interessante Perché vi fa vedere Dove proprio Sarebbe vantaggioso farlo Ad esempio In tutta questa zona qui Ok Rossa che vedete È vantaggioso Perché vi fa vedere Che sono zone dove L'elettricità costa poco O sono zone con temperature molto basse E c'è una connessione internet veloce Dove si trova il mining in Cina Fondamentalmente è un posto Dove c'è solo Basso costo di elettricità Quindi vedete Come è interessante Appunto capire Il perché Molti si trovano In quelle zone lì Infatti vedete che In zone dove l'elettricità Comunque ha dei costi superiori Non sono neanche segnalate Perché appunto Non è conveniente Andare a minare Guardate bene Come lo Xinjiang Se lo nomino correttamente Questa parte della Cina E l'inner Mongolia E questo qui Che non so dirvi Quelle zone comunque viola Siano zone dove Si ha Si ha Low cost electricity Quindi ci sia L'elettricità che costa molto poco E si ha anche zone In cui la temperatura è molto bassa Questo per Mantenere i sistemi di raffreddamento Dei miners Quindi è molto molto interessante Appunto si parla di come In realtà Nuova era Quella del Ban Delle cripto Se venisse veramente Anche Adoperato sul mining Per quanto riguarda Lo stato cinese Perché potrebbe portare Nuove Nuove Linfe Ok Andiamo a vedere I totali gainers Delle 24 ore Perché troviamo Helium Più 30 Troviamo Theta Più 23 Troviamo Bakery Che ieri ne abbiamo parlato Anche di Bakery Delle ottime performance Che stavano andando a fare Recupera petizione 91 Ricordiamo Progetto NFT Legato alla BSC Quindi molto stretto a Binance Molto interessante Mi piace molto Theta Più 12 Xinfin Più 12 Poi il Kadot Che recupera 1 più 7 Mdex 1 più 7 75 Torchain Quindi vedete In realtà Non Gainers In doppia cifra Tranne i primi 5 Poi dopodiché Andiamo Leggermente più scarichi Vediamo i losers Abbiamo Engine Ma venivamo ieri Da una Da appunto Ieri appunto Avevamo elogiato Le performance Incredibili Quindi Ha dato indietro Un pochino Settimana si mantiene Comunque positiva Stacks Meno 10 OMG Meno 7 Ma neanche qui Non vediamo Particolari losers Ok Siamo Abbastanza Piatti In realtà Piatto è anche il prezzo Di bitcoin Perché Perché si sta mantenendo L'equilibrio Sideways Ok Fase di equilibrio L'avevamo detto Nella puntata di ieri Calma Prima della tempesta Stiamo continuando a fare Questa Questo movimento qui Che è un movimento Di Ma direi Di consolidazione Del prezzo Consolidamento Del prezzo Perché il prezzo Si sta Trovando In una fase Leggero stallo Quindi non stiamo Avendo una direzionalità Forte Né up Né down Ok Questo perché Perché Dopo Solitamente Un dump Molto forte Il prezzo Dove trova Il suo bottom Ok Va poi A rimbalzare E a cercare Una sorta Di equilibrio Equilibrio Che nel caso Bullish Ripeto Deve continuare La sua salita Il più alta Possibile Ok Quindi Dovremmo cercare Di recuperare Almeno queste zone qua Per tornare Ok Nelle zone Più safe Ok Se continuiamo così Nulla ci vieta Che possiamo farlo Per ancora Parecchi giorni Fino almeno Fine mese Ok Abbiamo anche Le option In scadenza Quindi Sapete Quelle situazioni In cui il prezzo Viene un attimino A essere più Manipolato Però Personalmente Credo che Non ci siano Particolari Segnali In questo momento Di Bearish Ok Fondamentalmente Stiamo continuando A ondeggiare Qui Bisognerà capire Di non perdere Ecco Nel breve Questo supporto 37.3 Perché Ci farebbe Accelerare Almeno A 36.3 E non vorrei Vedere invalidati Questi minimi Perché Potrebbe Aprire Uno scenario Nel quale Potrebbe Eserci Il ritracciamento Più profondo Però Sappiamo Anche Che Siamo Verso Scadenza Delle option E quindi Van gestite Le posizioni Anche In ottica Di quella Situazione Lì Per quanto Riguarda La total Invece Ci troviamo Anche qua In zona 1.62 Dopo Essereci Avvicinati A 1.75 Lo vedete Anche la total market Cap Continua A ondeggiare Ripeto Il mio obiettivo È sempre questo Vedere Recuperata Questa trendline Che per me È una trendline Legata al bull market Perché Perché è una trendline Che non abbiamo mai perso Che è meglio Recuperare Il prima possibile Per darci Maggiore Affidabilità Perché vedete Molto bene Come L'ho tracciata Scusatemi L'ho tracciata Appunto Dall'inizio Di gennaio Ok Più o meno È sempre stata Rispettata Ok Con i suoi drop Quindi Non dico Di recuperare I 2.58 Trillions Ma almeno I 2 trillions Per andare A fare Questo Ok E poi Andare a Continuare Magari Il nostro Bull market Ok Questa Sarebbe L'ipotesi Bullish Ragazzi Io mi fermo Come sempre Vi invito A lasciare un bel Mi piace Se questi Conti Vi piacciono Vi sono utili Per le vostre Analisi Noi ci vediamo Questa sera Per il morning With crypto Andremo appunto A fare Analisi Tecnica Ci vediamo Questa sera Appunto Intanto Vi auguro Una buona giornata E Ciao a tutti Ciao a tutti